Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video, purtroppo questo video lo dovrò fare molto di corsa perché sto partendo per il Luca Comics come già vi ho detto nel video precedente, quindi siccome vi avevo promesso che vi avrei portato subito l'apertura di questo box, mi sto sbrigando ad aprire questo box per portarvi subito una parte dell'apertura di questo box, quindi lasciate subito un bel like ragazzi e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, ora andiamo con la sigla e poi apriamo questo box sole luna invasione scarlatta, scusate se vado troppo veloce però tipo sto per andare via e quindi devo sbrigarmi molto velocemente, cioè se mi sbrigo ovvio vado velocemente. Comunque vabbè, sigla e poi andiamo con l'apertura. Allora ragazzi siamo qui con l'apertura di questo box sole luna invasione scarlatta, finalmente ragazzi è uscito proprio oggi questo box e ve lo sto portando subito sul canale, quindi innanzitutto ringrazio il negozio per avermelo fatto arrivare oggi. Poi, niente, andiamo con l'apertura di questo box, il taglierino l'ho lasciato nella postazione dell'apertura dei box e quindi niente, devo usare le forbici e andiamo con, sto registrando, bene, andiamo subito con l'apertura di questo box sole luna invasione scarlatta. Ragazzi finalmente è uscito, era ora, e allora togliamo questo coso, ora per farlo ci vorrà tipo una giornata e mezza. Anzi invece ragazzi è la prima botta, ormai sono un esperto ragazzi ad aprire le box, allora, eccolo qui sole luna invasione scarlatta, io direi di aprire subito, allora sono 32 pacchetti, giusto? 3, 6, 12, 15, 18, 14, che dei pacchetti so? Ragazzi, contiene 36 bustine, quindi so 18 e 18 36 se faccio in due parti, però credo che lo farò in tre parti, se no altrimenti non faccio in tempo a portarvelo tutto. Quindi andiamo subito con il primo pacchetto sole luna invasione scarlatta, mettiamola a fuoco, ecco bene, ci siamo. Allora, primo pacchetto, e vediamo cosa troviamo, allora, purtroppo non mi piace molto fare video così di corsa, però devo sbrigarmi che devo andare via, mi dispiace, però spero di essere fortunato lo stesso anche se vado di fretta. Allora, primo pacchetto in assoluto, in italiano, energia, Akamu, ragazzi, guardate l'artwork, carino, Hunter, Allenatore, Chimeco, Jigglypuff, Execute, Stuffhole, Magic, spettacolo ragazzi, Magikarp, Shellos, Reverse, Registeel, guardate l'artwork bello di Registeel, che spettacolo. Comunque, primo pacchetto abbiamo trovato un Registeel e uno Shellos Reverse, che mettiamo... ah, questi quattro pacchetti credo che li tolgo, perché sono quattro pacchetti che ho comprato sfusi così a casaccio, giusto per portarne un pacchetto nell'apertura del video precedente. Quindi, primo pacchetto, Registeel più Shellos Reverse, andiamo? Tutti questi da sinistra, va al caso. Allora, secondo pacchetto, Soleluna invece non è Scarlatta, vediamo cosa proviamo. Sto andando velocissimo, ragazzi, potrei fare quasi un record di velocità apertura del box. Allora, trick, a quattro che trickiamo e andiamo con energia, Hunter, un altro Hunter già, un'altra piena di sola, cacchio, tutto il doppione. Zwillios, Undor, ragazzi, spettacolo, Pikachu, ma come l'hanno fatto questo Pikachu? Pikapesca, Pikapesca o Pikapesca? Scrivetemi l'hashtag sotto se è Pikapesca o Pikapesca. Pikan se capisce, Pikan se capisce, hashtag Pikan se capisce. Skiddu, Skiddu, Starly, Numel, Hydreigon Reverse, Mamoswime, ma non è Olo, Mamoswime raro. Ragazzi, sto iniziando proprio male questa apertura di questo box, quindi lasciate subito un like per portare un po' di fortuna e vediamo se funziona. Andiamo con il terzo pacchetto Soleluna Invasione Scarlatta. Questo qua, ragazzi, non lo sento e troviamo qualcosa di buono. Su, terzo pacchetto, togliamo la carta codice, facciamo il trick a quattro e andiamo con... Spero si senta bene l'audio nel video perché, ragazzi, ho l'aria condizionata accesa perché sto facendo tutti i corsi e sto sudando. In più c'è gente a casa, è un macello e più il computer ogni tanto parte a fare rumori strani, quindi potrebbe essere molto confusionato il video, soprattutto perché sto parlando veloce e non si capisce niente. Cioè, non che l'altra volta si capisca qualcosa. Comunque, va bene. Pacchetto numero 3. Terzo pacchetto, Energia. Staravia. Piloswine. Ah, prima ho detto Mesa Piloswine, invece era Mamoswine. Vabbè, comunque, Gastly, Aaron, Deino, due stadio, over two, Ramp Capone. Spoil, tre versi, Golem di Alola GX, full art. Spettacolo, ragazzi. Golem di Alola GX. Azione super elettromagnetica 200. Macigno ponderoso GX 100. Spettacolo. Questo qua, ragazzi, subito. Ah, nella sleeve, a proposito delle sleeve, devo ricordarmi di portare le sleeve. Lo stanno a proposito. Eccole qua. Non trovo mai queste sleeve, ragazzi. Ora me le metterò tipo in fronte, almeno ogni volta le trovo subito. Ecco qui, Golem di Alola GX full art, che sliviamo subito. Beh, i primi quattro pacchetti... No, quanti sono? I primi tre pacchetti, non male. Una full art ci stava tutta. Allora. Scusate se vado di fretta. Comunque, ecco qui, ragazzi, prima full art, che mettiamo subito qua dietro da sfondo. Arrivediamo dal volo. Eccolo qua. Golem di Alola GX. E mettiamolo qua dietro. Allora, andiamo con... Però non si vede molto bene. Ora si vede, boh, più o meno. Andiamo con il quarto pacchetto. Questo di Silvalli, ragazzi. Ricordo di andare a vedere l'apertura del pacchetto singolo, quello lì, con una carta solamente promozionale, dall'interno, in cui ho trovato proprio Silvalli GX Shiny. È stato molto fortunato, perché ho aperto un pacchetto e ho trovato subito la Shiny. Allora, carta codice che togliamo. Continuiamo con questa apertura, se no perdiamo il filo del discorso. Allora, abbiamo... Ah, devo tenere bene il conto? Se no non posso fare il diviso 3 l'apertura. Comunque, Energia, Piloswing, Samina, Akamu, Mincino, Numel, Swinab, Swablu, Spoink, Hunter, Reverse, Milotic, Holo. Che spettacolo, ragazzi. Milotic, Holo. Guardate bello. Cioè, guardate bello l'Arto, insomma. Quarto pacchetto andato. Allora, sono 36 pacchetti, quindi facciamo 12, 24, 36. Non dimentichiamoci. Andiamo con il quinto pacchetto. Sono l'Uno, in versione scarlatta, come ho già detto 30 volte. Allora, purtroppo devo sbrigarmi e non mi sto godendo appieno questa apertura. Però, ragazzi, credo che farò solo una parte prima di partire. Le altre due parti le farò appena tornato così me lo gusto. Allora, Energia, Kakuna, Achelgor, Roma Psigo, Maesdrephus, Shelmet, Swablu, Swinab, Jigglypuff, Daino, Reverse, Geridos GX. Che spettacolo, ragazzi. Era la GX preferita di questo box, che è da parte mia, ovviamente. Geridos GX. Che spettacolo. Tempesta Malefica GX. Ragazzi, io direi di andare a mettere subito questo Geridos GX nella sleeve. Questo qua, ragazzi, la metterò subito come immagine di copertina del video. Ammesso che riuscirò a trovare un computer con cui cambiare l'immagine di copertina del video, perché probabilmente, mentre voi state guardando questo video, io già sono arrivato a Luca Comics. O se non ci sono arrivato, ci sto andando, quindi... Non so se farò in tempo a fare tutte queste cose o macello. Comunque, Geridos GX. Che spettacolo. Mettiamolo subito vicino al Golem di Alola GX Full Art. E andiamo con il... Che numero era? Ragazzi, abbiamo Deino e Hydreigon. Manca solamente... Zuelius, Reverse. E li abbiamo tutti e tre. Allora, abbiamo cinque pacchetti già aperti. Andiamo con il... Sesto pacchetto. Ragazzi, è tantissimo che non aprivo un box da 36 pacchetti. Non mi ricordavo che era così... Così lungo come video. Quindi, carta codice che togliamo. Forse si è spoilerata la carta che non è né GX né Full Art né niente, ma è solamente carta holo. Comunque, va bene. Allora... Energia. Hachal Gore. Allenatore. Starevia o Staravia. Salandit. Cubon. Widol. Mincino. Corpish. Allenatore Reverse. Bidrill. Niente da fare, ragazzi. Marsupio. Che spettacolo, ragazzi, questa carta Marsupio? Giusto mi serviva per andare in fiera. Comunque, va bene. Dettagli che possiamo tralasciare benissimo. E andiamo con il settimo pacchetto. Ragazzi, vorrei trovare un'ultra creatura GX che già l'ho trovata nel box quello che ho aperto in giapponese. Anzi, no, non ho aperto il box, avevo aperto i pacchetti singoli. Già l'avevo trovata un'ultra creatura GX, però la vorrei trovare anche in italiano. E abbiamo Energia. Allenatore. Allenatore. Lyron. Starling. Skiddu. Skiddu. Mi hai dato di Skiddu? Sembra tipo un dialetto. Comunque, Pikachu. Geodude di Alola. Miss Dreyfus. Raichu di Alola Reverse. Che spettacolo. Raichu di Alola Reverse. Beware Holo. Infatti, sembra molto 3D. Non so il perché di questa cosa. Comunque, Beware Holo. Che mettiamo? Niente, da nessuna parte, ragazzi. Perché non posso mettere nelle slive, sennò perdo troppo tempo. Quindi, 3, 6, 7, 8 pacchetti. Già, beh. 3, 6, 7, 8 pacchetti. Perché? Perché se dico 3, 6, 7, sono 7 pacchetti. Quindi, 3, 6, 7 pacchetti aperti. Ne mancano due. 1 e 2. Quindi andiamo con il penultimo pacchetto di questa apertura. Lasciate subito un bel like. Intanto, ragazzi, non vi dimenticate. Perché... A meno sono condendo. Allora, trick a 4. E andiamo con... Sto facendo tutto di corsa. Energia. Poi abbiamo... Poi abbiamo... Allenatore. Lyron. Kakuna. Stario. Pumpkabu. Staffol. Geodude di Alola. Cacnea. Stario. Reverse. E... Cacturn. Non stiamo finendo in bellezza. In bellezza. Ma... Abbiamo dato già una full art e una GX. Quindi va bene. Abbiamo 3, 6, 7, 8 pacchetti. Ultimo pacchetto. 9, 18. Ma che cacchio sta a dire, ragazzi? Sono 12 pacchetti da aprile. 3, 6, 7, 8, 9. 9, 8, 9 pacchetti. Come cacchio conto? Se facevo 9 erano 4... 4 per 2. Io ne devo fare 3, quindi... Boh, abbiamo fatto 3 pacchette. Poi vediamo. Allora. Non mai voglio spoilerare niente. Cattacodice che tolgo. Trick a 4. Che è tricco. E andiamo. Tricco. Che spettacolo. Trick a 4. Che è tricco. Vabbè, comunque. Energia. Allenatore. Mewile. Attenzione, ragazzi. Guardate quest'arco... Quest'artwork. Hashtag artwork. Questo artwork di Diggersby. Poi abbiamo Remoride. Monkey, ragazzi, che scappa da un... Non so cosa. Un geyser. Boh. Young Moon. Kara Blast. Fibas. Che spettacolo, ragazzi. Chimeco. Reverse. E... Cameru. Che è raro. Nada. De nada. De nada. Però la reverse mettiamo davanti. Ok. Allora. 3, 6, 7, 8, 9. Decimo pacchetto. Ragazzi, io voglio un'ultra creatura GX. Ragazzi. Hashtag vogliamo l'ultra creatura GX. Ok. Vabbè, l'hashtag è troppo lungo. Non lo metterete mai. Quindi facciamo hashtag. Ora esce la GX. No. Hashtag... Non lo so. Perché devo improvvisare questi hashtag. Che poi non sono in grado di improvvisarli. Comunque. Andiamo con questo pacchetto. Numero... Non so quanto. Energia. Sto registrandosi. Mewile. Diggersby. Allenatore. Ondor. Stario. Youngmu. Shalmett. Salandit. Kamerup. Treverse. Oranguru. Ragazzi. Oranguru. Niente da fare. Kamerup. Treverse. Mi aiuta niente. Quindi. Abbiamo. 4, 8, 9, 10 pacchetti aperti. Ne mancano solamente due. Estraiamoli subito. Sennò poi mi dimentico. Devo ricontare. Allora. Andiamo con il penultimo pacchetto. E abbiamo proprio lui ragazzi. Ho visto qualcosa. Ho visto qualche cosa al penultimo pacchetto. Quindi ragazzi concluderemo in bellezza. Energia. Metti a fuoco magari è meglio. Energia. Cincino. Gramping. Emolga. Mincino. Corfish. Gastly. Aaron. Daino. Swablu. Reverse. Alixia. Allenatore. Full art. 111 di 111. Guardate che spettacolo. Alixia. Beh. Io dico Alixia. Non so se la pronuncia è proprio corretta così. Comunque. Avete capito. Di cosa stiamo parlando. Eccolo qua ragazzi. Che spettacolo. Due full art e una GX. Nei primi 12 pacchetti. Ah. 11 pacchetti. Perché ne ho ancora un altro. Molto bene. Quindi. Mettiamo subito. La carta allenatore. Aiuto. Nella. Sleeve. Lo mettiamo qua dietro. Che ci porterà fortuna. Come no. Perché l'ultimo pacchetto sappiamo già che non troveremo nulla. Però. Dato che è l'ultimo pacchetto ragazzi. Andiamo alla testa e basta. Senza ulteriori. Indubbli. Allora. Qua. Troverò una bella holo. Me lo sento. Allora. Trick a 4. E andiamo con. Non potete capire quanto sto a ritardo. Ragazzi. Questa carta. Non so se riuscite a vederlo. Metto il dito dietro. Forse si vede. Guardate lo spigolo strano di questa carta. Vedete. Oppure sta allineata con quell'altro. Aspettate. Guarda. Ora l'allineo bene. Vedete. Aspettate. Non si vede. Metto il dito dietro. Metti a fuoco sul dito. Vabbè. Non metto a fuoco. Però ragazzi. C'ha tipo l'angolo strano. Ecco. Forse adesso si vede. Qui. Dove sta il mio pollice. C'ha tipo l'angolo strano. Comunque. Vabbè. Non vi interessava. Però. Ora vediamo perché questa cosa. Energia. Grampig. Emolga. Allenatore. Pikachu. Chimeco. Magikarp. Bunnelby. Shellos. E questo Vido Reverse ragazzi. C'ha l'angolo. Tutto strano. Comunque Vido Reverse. Octillery. Niente da fare ragazzi. Ultimo pacchetto. Non abbiamo trovato un bel nulla. Però. Ricapitoliamo. Cosa abbiamo trovato in questi. Primi dodici pacchetti. Dell'apertura di questo box di soluna. Ombre infuocate in italiano. Guardate che spettacolo. Abbiamo. Alexia. Geridos. GX. Che era quello che volevo trovare. Più Golem. Medialolo GX. Full Art. Quindi ragazzi. Questo è perfetto per l'immagine di copertina. Direi. Guardate che bello. Quindi. Spero il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Ci vediamo al prossimo video. Sperando che sia fortunato come questo. Però non so quando pubblico l'altro video ragazzi. Perché adesso sto. Casinatissimo. Quindi. Like. Subscribe. Share. E tutto quello che volete. Saluti da. Ovviamente. Senza. Pensarci. Geridos. GX. Grazie. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti